Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo la dispersione della luce attraverso un prisma equilatero. La luce naturale contiene tutti i colori dell'arcobaleno ed è possibile vederli, osservarli, attraverso l'utilizzo di un prisma equilatero e procedere alla scomposizione. E' il fenomeno della diffrazione della luce e vediamo appunto la dispersione di tutti i colori attraverso questo prisma equilatero. E' importante l'incidenza del raggio di luce. Qui vedete proprio i colori e se avrete pazienza di vedere l'intero video vedete proprio come si osservano bene tutti i colori dell'arcobaleno. Buona visione, grazie e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie 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 a tutti